Buonasera a tutti, sono Ettore Ruggero, sono di Artes di Assotes e con voi oggi pomeriggio per affrontare il tema il turismo d'impresa, come sviluppare l'attrattività turistica di aziende e prodotti made in Italy. È un tema che da anni mi vede appassionato, su cui ho lavorato in particolare nella mia regione, la Puglia, per costruire una rete di turismo industriale o di turismo d'impresa, che dir si voglia. E allora cerchiamo di comprendere quali sono i temi chiave, che cosa è in ballo e qual è l'opportunità di fare turismo d'impresa e di svilupparlo in termini turistici. Ovviamente sono a disposizione per ogni tipo di domanda che consiglio di fare nella chat in modo tale che negli ultimi dieci minuti si possa dialogare e interagire rispetto ai contenuti che vorrò condividere con voi. Allora, io sono partito da queste considerazioni elementari, cioè che in Italia abbiamo un'offerta insufficiente di servizi turistici e culturali e l'offerta esistente, ovviamente rispetto ad altri nostri competitor, Spagna e Francia, per dire le due che ci sovrastano, soffre di approssimazione, episodicità ed estemporaneità. E paradossalmente invece c'è una domanda sempre più crescente, ovviamente mi riferisco all'anno zero prima della vicenda Covid e quindi ancora di più oggi possiamo ritenere vere queste ipotesi che facevamo già da un po' di tempo, sempre crescente un turismo che chiede alta professionalità, standard di servizio, elementi certi e utili alla programmazione, accoglienze ed autenticità riconoscibili sin dalla fase di selezione e di scelta del prodotto. Un'altra evidenza è che il Made in Italy è ricercato, apprezzato e turisticamente attrattivo e vedremo quali sono le caratteristiche di questo che è uno dei brand più conosciuti al mondo. Non solo, il turismo industriale, il turismo d'impresa è in crescita in tutto il mondo, da anni ormai è parte dell'offerta culturale e turistica e quindi anche in Italia può essere di grande attrattività. Vedremo come siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni e negli ultimi anni comunque via via il tema ha suscitato interesse, è uno per tutti il lavoro egregio che hanno fatto i musei d'impresa della rete di Confindustria. E l'ultima considerazione è che per crescere come destinazione turistica molte regioni italiane, molti territori hanno bisogno di moltiplicare le attrazioni turistiche lungo l'arco dell'anno, il grande tormentone della destagionalizzazione che quindi può trovare in questa offerta un'offerta di qualità ed aggiuntiva rispetto alle attrazioni turistiche già esistenti. Cos'è il turismo industriale o turismo d'impresa che dir si voglia? È quell'insieme di attività svolte alla conoscenza, alla scoperta di luoghi, di manufatti, di strutture, di processi e quindi delle persone che identificano lo stile di vita e la produzione di uno specifico territorio ovviamente nel contesto di imprese esistenti o di imprese che purtroppo non ci sono più. Per cui vedremo come tutte le azioni relative all'offerta di turismo industriale hanno lo scopo di promuovere iniziative per la visita delle imprese e ovviamente dei loro territori, ma le imprese in termini di impianti di produzione, musei e archivi aziendali. Ecco, il concetto di turismo industriale non è solo quello forse più facilmente conosciuto, è quello che ha avuto storicamente un maggiore sviluppo, vale a dire quello della visita, della conservazione, tutela e valorizzazione, quindi fruizione di siti dismessi del patrimonio industriale, cioè vecchie aziende che non esistono più, i cui involucri più o meno vuoti o più o meno pieni, spesso e volentieri sono state date via le attrezzature, gli impianti che avrebbero potuto costituire un oggetto di interesse interessantissimo anche per fare lo storytelling di questi luoghi, ecco non solo siti dismessi, ma anche esposizioni e musei di impresa, ce ne sono diversi, accennavo alla rete dei musei di impresa Confindustria, ma anche tutta una serie di aziende attive. Ora il termine industria, il termine impresa ovviamente ricordo fa riferimento a tutto quanto quello che è produzione ovviamente di beni tangibili ed intangibili, quindi parliamo del mondo industriale in senso stretto, ma anche del mondo artigianale, degli artigiani singoli associati che sono in grado di sviluppare prodotti che vedremo sono identificabili ed identificati proprio perché prodotti in Italia col marchio Made in Italy, con questa label che ci consente di essere conosciuti in tutto il mondo e vedremo perché e per cosa. E allora il patrimonio industriale è dato da aspetti materiali ed immateriali, come vedete qui nella slide, e voglio ricordare che solo nel 2008, per la prima volta, nel nostro paese si parla di tutela dei beni del patrimonio di archeologia industriale, quindi di una parte di quello che stiamo definendo come oggetto del turismo industriale, nel codice dei beni culturali e del paesaggio che considera i beni culturali, le cose immobili e immobili della scienza, della tecnica e dell'industria. Quindi questo è, vedete, finalmente un cambio culturale che si è avuto da un po' di anni a questa parte e che ancora vedremo ad affare tanta strada, sia nella consapevolezza delle imprese, sia nella consapevolezza degli operatori turistici che devono trovare un punto di incontro e devono trovare momenti di valorizzazione reciproca, come vedremo, perché ci troviamo di fronte a quella che io chiamo una coincidenza astrale, come vedremo, di mercato, vale a dire che tutti quelli che amano venire in Italia sono anche quelli più interessati a comprare i prodotti italiani, ma lo vedremo tra un po'. Il fenomeno, giusto per inquadrarlo, nell'ambito internazionale, noi abbiamo l'industrial tourism, il living industry, l'industry tourism in gergo anglosassone, il turismo della decouverte économique in francese, il turismo dell'industria viva in spagnolo e poi appunto la denominazione turismo industriale e turismo d'impresa in italiano. In Germania il concetto si lega invece prevalentemente al patrimonio industriale dismesso. In Spagna invece, come vedete dal titolo, è più orientato all'industria attiva, all'industria che funziona e che quindi diventa un elemento di attrattore, come vedremo, nel territorio. Dagli anni 90 abbiamo esperienze negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, dove viene utilizzato il termine industrial seaside, e il giro turistico industriale e in Italia nasce nel 2001 Musei Impresa, la rete di cui vi parlavo, che è presente con i suoi musei in diverse regioni del nord e prevalentemente in Puglia per esempio abbiamo solo due musei, uno recentemente inserito nella rete e nelle altre regioni ce ne sono ancora pochini. Io ho avuto modo, lavorando nel settore negli ultimi anni, di vedere come il tema di creare piccoli musei aziendali, esposizioni, archivi di impresa è un grande bisogno, una grande necessità, ripeto, anche in chiave turistica perché favorisce molto, molte aziende se ne stanno rendendo conto, proprio la possibilità di raccontare, come vedremo, la storia dell'impresa, le rivoluzioni tecnologiche degli ultimi due secoli e così via. Ma dicevo che il Made in Italy è il terzo brand al mondo per notorietà dopo Coca-Cola e Visa e quella che viene definita la produzione Made in Italy è riferita alle cosiddette 4A, l'alimentazione, l'abbigliamento, l'arredamento e l'automotive. Nel tempo hanno guadagnato una certa fama con anche il dovuto corrispettivo vantaggio commerciale e il successo mondiale del marchio qual è? È quello di essere identificato con la qualità e lo stile tutto italiano. Il nostro paese è percepito come una terra che produce il bello, il ben fatto, il buono, la sua storia centenaria lo racconta, lo dimostra, il suo patrimonio culturale ne evidenzia tutti le caratteristiche e quindi indubbiamente ci troviamo di fronte a un brand forte che è capace di dimostrare la qualità intrinseca dei suoi prodotti e la capacità di evocare nel consumatore mondiale proprio questi valori positivi, dicevo, di cui il marchio, di cui noi italiani, l'Italia è portatore. La bellezza, l'arte, la cultura, la tradizione, il paesaggio, la creatività con tutto il ventaglio delle differenze territoriali che siamo in grado di offrire e che quindi creano un'immagine dell'Italia proiettata all'estero estremamente positiva da questo punto di vista. Il binomio, dicevo, vincente, ormai da qualche anno l'abbiamo capito in teoria, ma probabilmente dalla teoria alla pratica, come al solito, ci vorrà del tempo, soprattutto se non ci si dà una mossa con i tempi che fortunatamente e paradossalmente quelli della pandemia ci consentono di poter sfruttare al meglio per ripartire con una certa possibilità di programmare in modo innovativo e in modo puntuale. Ecco, il Made in Italy, come ho cercato di dimostrarvi, può essere una leva moltiplicatrice per far crescere e di tanto le imprese turistiche in Italia, proprio perché, dicevo, nella parte, nel mondo, analizzando una serie di dati, ho avuto modo di fare una ricerca e in fase di pubblicazione un libro su questo tema, i dati che i mercati dei beni potenzialmente più interessati al Made in Italy e quelli relativi ai mercati turistici internazionali più inclini al prodotto turistico italiano sono nella quasi totalità geograficamente disponibili. E questa è un'ottima notizia, ovvero chi ama il prodotto italiano vuole venire a vedere dove viene il prodotto, chi lo produce, da quale contesto nasce e nello stesso tempo chi arriva in Italia, magari conoscendo poco e avendo poco fruito di questi prodotti, ha o potrebbe avere la possibilità di scoprirne al meglio e quindi di diventare potenziale fruitore, anche grazie allo sviluppo oggi dell'e-commerce e della logistica, che non ha più un problema. Lo scenario competitivo mondiale, i trend del turismo li conosciamo tutti, l'Europa è la regione più visitata al mondo, c'è una forte ripresa di mercati emergenti, Brasile, Russia, per non parlare poi India e Cina, di queste cose penso che siamo tutti al corrente, c'è un recupero di destinazioni che soffrono problemi di sicurezza, quindi ci possiamo inserire adeguatamente in questo scenario competitivo dove l'Italia è molto richiesta, purtroppo poi non è la destinazione o non è capace di diventare la destinazione più richiesta dal punto di vista dei numeri e dal punto di vista dei fatturati, quindi delle presenze ma poi della spesa pro capite. Io vi faccio l'esempio del turismo pugliese, ma si può sovrapporre il tema a molti altri territori, il caso a tutti noto di una realtà in crescita nel turismo negli ultimi anni, con una stagionalità ancora abbastanza marcata, con una crescita accettabile sempre in positivo, con percentuali positivi della componente straniera e anche in Puglia, come negli altri territori, il mantra del piano strategico, dei vari piani strategici, vi ricordo che il piano strategico nazionale del turismo sottolinea queste problematiche, destagionalizzare uguale internazionalizzare e il mercato europeo resta di gran lunga il più produttivo per i nostri operatori e lo sarà probabilmente a breve e medio termine proprio a causa di questa lenta ripresa della pandemia. Il Puglia 365, il piano strategico della nostra regione, immagina un turismo proprio maggiormente integrato con l'offerta culturale, artigianale, agroalimentare e allora dalle dichiarazioni di intenti, come molto spesso succede da noi in Italia, dobbiamo passare all'implementazione di questi obiettivi. E allora è importante avere una visione di quello che è stato il fenomeno internazionale del turismo industriale. Noi abbiamo avuto quattro generazioni. L'heritage marketing, quello in cui all'inizio si è incominciato a scoprire qualche sito patrimonio, soprattutto quelli legati all'archeologia industriale e si è fatta un po' di conoscenza e un po' di promozione. Poi c'è stata la generazione funzionalista, vale a dire il periodo nel quale questi siti sono stati resi funzionali e sono stati magari riutilizzati per scopi di tipo sociale, al servizio delle comunità. Quindi l'ottica è stata più di quella del riutilizzo. Vado veramente per parole chiave. Un altro che è quello più diffuso, diciamo così, nella gran parte dei territori è quello dell'educational marketing oriented, vale a dire di far diventare questi spazi, da un lato luogo di formazione, di apprendimento, di conoscenza delle tecnologie, dei prodotti, dei processi, della storia del territorio e che in un qualche modo possono concorrere ad un orientamento di mercato, mercato che valorizza il territorio dal punto di vista turistico. Ora la fase che a mio parere dovrebbe vederci i protagonisti, quindi il salto di qualità da poter fare è proprio la generazione esperienziale, un'esperienziale di qualità. Come vedremo il modello che vi propongo, quello che secondo me è ciò che può far diventare un'impresa turisticamente attrattiva, perché diciamo di primo acchito non lo è affatto, per logiche, per anche lo stesso, come dire, l'affiancare imprese e turismo, molte volte ci sembra di parlare di uno simoro, di qualcosa, di mondi fortemente distanti. Ecco, l'obiettivo è quello di fare un esperienziale di qualità, come vedremo, come cercherò di descrivere, vale a dire di far vivere delle esperienze nell'ambito dei luoghi di turismo d'impresa, quindi aziende attive, musei, esposizioni, piuttosto che siti di archeologia industriale, in modo tale da poter creare eventi, da poter creare occasioni turisticamente attrattivi. E quindi l'obiettivo che mi sono posto è quello di progettare visite d'impresa, eventi, servizi per il turismo industriale, proprio basati sull'economia, sul turismo delle esperienze, che ho avuto il piacere di poter conoscere attraverso l'incontro con l'esperienza di Artes. L'esperienza, così come definita da Pine e Gilmore, nel testo che dà origine a questa, tra virgolette, ubriacatura dell'esperienziale, perché tutti quanti oggi parlano dell'esperienza, di fare esperienza, di vendere le esperienze turistiche, ma vedremo che non è tutto esperienza o tutto è esperienza, si tratta di capire di cosa effettivamente stiamo parlando. Ecco, il modello di Pine e Gilmore, sviluppato poi anche nell'ambito di Artes, mi ha consentito di mettere a punto un modello in cui, vedete, il tema dell'intrattenimento, il tema dell'esperienza estetica, dell'evasione e dell'educazione, quindi della partecipazione attiva e dell'immensione, i processi di coinvolgimento di chi vogliamo che faccia con noi un'esperienza, ha la possibilità di essere realmente costruita, vissuta all'interno di un'azienda, ovviamente valorizzandone la storia, i protagonisti in termini di persone. La gran parte delle nostre imprese sono piccole, piccolissime imprese che sono nate, o talvolta già la terza, quarta generazione, per persone che hanno sviluppato passioni, interessi, competenze in determinati settori e quindi troviamo ancora oggi poi dipendenti o collaboratori che ci comunicano questo tipo di cultura e quindi c'è la possibilità, come vedete, questo è il risultato di una piccola ricerca di quelli che potrebbero essere i servizi offerti dal turismo industriale, da imprese che si aprono ai turisti, alla visita dei turisti, non, ecco un'altra cosa importante vorrei dire da subito, non in modo estemporaneo ma in modo strutturato, organizzato, programmato perché occorre sapere che l'azienda X è aperta nei giorni, ha la possibilità di ospitare i turisti in quel giorno, in quelle ore che l'offerta è di un certo tipo, salvo ovviamente iniziative on demand e quindi c'è la possibilità, vedete, di poter realizzare, di poter lavorare, diciamo, con questi servizi, concerti, spettacoli teatrali, attività per bambini, programmi culturali, laboratori, eventi per sponsor, possono essere più diversi, congressi internazionali, convegni, eventi per i clienti, ecco tutto quello che può offrire un turismo industriale largamente inteso secondo tutto lo spettro di quelli che potrebbero essere i servizi che un'azienda mette a disposizione per ospiti di diverso tipo, come vedete, non ultimi laboratori didattici e scolastici, ma il motivo prevalente per quello che io chiamo una visita o i company guided tour, questo prodotto che adesso cercherò di descrivervi in sintesi, le cui caratteristiche devono essere molto precise per far sì che possa essere effettivamente un'offerta, come posso dire, determinante e autentica e nello stesso tempo riconoscibile da parte dell'azienda, che ripeto può fare, come avete visto, tutta una serie di altre iniziative, ecco però un'idea di visita da offrire ai turisti, in particolare a un pubblico internazionale, dovrà avere una serie di caratteristiche. Quello che mi preme sottolineare adesso, ecco vedete quali sono i motivi che tra l'altro vedono le imprese particolarmente inclini ad aprirsi a questa attività nuova, a questa attività o se dire complementare, molto complementare al loro business principale. È un tema di company image in termini di visibilità dell'impresa, di visibilità del marchio, in termini promozionali di comunicazione e pubblicità del prodotto, ma anche di fidelizzazione. Quante imprese hanno attraverso le visite consentito che visitatori, turisti potessero conoscere i prodotti che poi hanno continuato ad acquistare più o meno online. Quindi la vendita e la commercializzazione dei prodotti, quindi c'è anche un ritorno diciamo così commerciale, ma anche vorrei sottolineare un discorso di responsabilità sociale. Penso che siamo tutti convinti e gli imprenditori più intelligenti oggi capiscono che il ruolo di un'azienda in un territorio non può essere agganciato da una responsabilità sociale ed ambientale, quindi dal grande tema che dobbiamo implementare sempre di più nei nostri discorsi, che è quello della sostenibilità. Vi ricordo che anche il new generation plan che amo citare, meno recovery plan, diciamo ci misurerà proprio su questo, sulla capacità di responsabilità sociale, quindi di affermazione anche del ruolo che le aziende possono avere in qualità di attori in un determinato territorio. La comunicazione istituzionale e poi, perché no, anche l'informazione e la formazione dei prodotti e dei processi produttivi, quindi l'azienda come luogo di produzione, di sviluppo e di condivisione del sapere o dei saperi specialistici. Ecco, il progetto che io ho avuto il piacere di curare, che mi ha consentito di mettere a punto queste idee che sto condividendo con voi oggi, è Make it in Puglia, che è una rete che si sta costituendo in Puglia, dove abbiamo appunto sperimentato degli standard su oltre 25 aziende o siti industriali e quindi poi abbiamo avviato la costituzione della rete Covid permettendo dovremmo esserci dopo due anni di percorso in cui tante aziende, quelle coinvolti, hanno imparato a capire come creare un prodotto di turismo industriale. Vedete qui i risultati, vado in maniera molto veloce, di un questionario che abbiamo fatto su oltre mille imprese pugliesi che per esempio non conoscevano, non sapevano nemmeno che esistesse il turismo di imprese o turismo industriale, vedete il 72% hanno risposto no, l'88% di aziende hanno risposto che non svolgono visite aziendali, ovviamente come voi ben sapete le aziende che hanno più aperto ai turisti sono state quelle negli ultimi anni dell'agroalimentare perché dove si mangia e si beve diciamo è più facile fare le visite ma quello che è l'intento del turismo di impresa è quello di vedere protagoniste tutte le imprese dei settori come abbiamo detto in particolare quelli del Made in Italy che sono anche più interessanti e più attrattivi per i turisti in particolare stranieri ma direi anche italiani quindi i motivi che spingerebbero l'azienda, vedete anche qui ci ritroviamo, visibilità di impresa, far conoscere i prodotti, far apprezzare i prodotti Made in Italy e poi non ultimo collaborare, vedete, allo sviluppo turistico del territorio ecco perché inevitabilmente queste visite strutturate e organizzate nei diversi siti di turismo di impresa devono ovviamente poter essere messi a sistema tra coloro che dovrebbero essere i primi a sponsorizzarli e a pubblicizzarli a farne promo commercializzazione vale a dire le strutture ovviamente tour operator e agenzie di viaggio che fanno incoming sui territori in cui le aziende insistono ma anche ovviamente tutto il settore della ricettività. Lasciando stare altri aspetti pur interessanti mi preme in modo tale da lasciare spazio al dibattito quindi come voi sapete c'è la possibilità di fare domande nella chat e quindi piacere di interagire su questi temi in base agli standard e il disciplinare di rete che abbiamo costituito diciamo riguarda vedete le caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti cioè il punto centrale è che non si può organizzare una visita come al solito improvvisata o alla mempeggio facendo entrare una serie di turisti e facendogli vedere qualcosa qualche macchinario facendo parlare con qualcuno magari anche facendoli avvicinare a un piccolo punto vendita un'esposizione dei prodotti eccetera eccetera ma occorre progettare e immaginare un'esperienza che i turisti possano fare ovviamente a diversi livelli e secondo anche tutta una serie di vincoli che le diverse aziende hanno e di rispetto anche delle norme della sicurezza della prevenzione. Immaginate cosa vuol dire entrare in un salumificio piuttosto che un'impresa che lavora gli acciaio e così via quindi è importante definire la caratteristica del prodotto e del servizio offerto vale a dire il contenuto delle due ore delle quattro ore che proponiamo al turista che dovrebbe pagare per questa attività perché poi l'altra questione è che queste cose non vanno fatte gratis vanno pagate fatte apprezzare perché c'è un valore c'è anche un costo per l'azienda poi sta all'azienda a definire se diciamo parte del costo lo considera tra i costi promozionali o in parte o in toto ovvero diciamo cercare di rimunerare tutti coloro che sono i protagonisti di questa attività che viene offerta ai turisti e che molto spesso soprattutto nelle piccole imprese prevede il coinvolgimento di guide turistiche anche per la mediazione linguistica piuttosto che tutta un'altra serie non necessariamente di figure interne all'azienda oltre i capi reparto o come dire gli specialisti e i professionisti che all'interno dell'azienda sono in grado di raccontare storia processi aneddoti no il tema dello storytelling anche qui inevitabilmente è un qualcosa che può fare la differenza e come dicevo all'inizio quanto più noi abbiamo manufatti oggetti artefatti di vario tipo siamo in grado di far vedere di raccontare e poi come vedremo di coinvolgere quindi non solo ovviamente il racconto e la presentazione delle caratteristiche del ciclo produttivo ma anche ecco il coinvolgimento sensoriale laddove è possibile con i cinque sensi il coinvolgimento suggestivo l'aspetto della spettacolarità va assolutamente progettato e assicurato l'effetto wow che inevitabilmente fa di ogni esperienza un qualcosa di memorabile ovviamente c'è un discorso di presenza di sistemi di gestione certificati pensate quello della sicurezza quello ambientale e ovviamente si tratta di valorizzare per esempio delle attività già realizzate in qualche azienda più più avanti lavorare integrando l'offerta di visite alla possibilità ricettiva della zona identificando i potenziali turisti ci sono tutta una serie di appassionati non so delle tecnologie meccaniche piuttosto che della produzione dei vini piuttosto che della della moda no del della 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 ceramica ecco ci sono tutta una serie di target di appassionati che possono vedere vederci attenti a destinare a loro anche secondo gradi e differenti approfondimenti le nostre l'offerta delle nostre visite ovviamente poi una volta creato un tessuto di aziende aperto ai turisti eh è facile poter eh inserirle in percorsi itinerari locali ma anche regionali di turismo industriale o e e o collegarli con siti di interesse turistico eh culturale quindi il museo piuttosto che il sito archeologico e così via è chiaro che in tutto questo come potete immaginare occorre lavorare con tutti i portatori di interesse di un territorio e eh coinvolgere la comunità locale in cui di cui in genere le nostre piccole imprese sono eh espressione e in un qualche modo eh sono eh legate e allora gli standard che una qualunque iniziativa nell'ambito del turismo di impresa deve poter definire ripeto l'improvvisazione non è più possibile nel nostro settore nel settore turistico come ovviamente anche in molti altri settori ecco la promozione e quindi molte aziende non possono fare da sé devono poter individuare interlocutori eh capaci di poter trasformare la loro storia i loro prodotti il loro patrimonio di know-how in eh prodotto turisticamente attrattivo quindi c'è un problema di definire gli standard di promozione e prenotazione di accoglienza di chi e come dove per esempio si accoglie il turista il percorso di visita la conoscenza del prodotto del processo attività accessorie è sempre eh molto interessante coniugare un aspetto di eh welcome con qualche prodotto tipico locale o di saluto finale con la possibilità di assaggiare dei prodotti tipici sia che noi si si stia visitando una un'azienda del settore agroalimentare sia che si stia visitando un'azienda del settore aerospazio non cambia la convivialità diventa un elemento fondamentale da programmare così come il commiato l'ultimo eh il momento finale tra virgolette dello spettacolo io parlo spettacolo per farvi comprendere come occorre fare una scena diciamo lavorare come se fosse un film che dobbiamo mettere a punto ma ehm non è non è non è fiction non è non è finzione è un qualcosa che dobbiamo costruire con eh persone con situazioni molto concrete e che devono esprimere tutta la loro autenticità e eh capacità di accoglienza e poi ovviamente tutte le azioni esposte di follow up che sono fondamentali per migliorare quindi tutte le procedure di prenotazione accoglienza dei visitatori eh gli obblighi e i comportamenti per esempio dal dal dagli indumenti da indossare piuttosto che dalle regole da rispettare su alcuni o eh eh tutti gli ambienti che vanno che che vanno a essere visitati eh ovviamente un registro dati della visita la segnaletica di sicurezza il layout dei luoghi in chiave di comunicazione efficace e poi ovviamente tutti gli aspetti le procedure di monitoraggio che dicevo da mettere a punto ecco questo è il marchetto nostro e della nostra rete di cui io sono molto orgoglioso che finalmente dopo tante vicissitudini eh eh come dire eh assenza di investimenti stiamo cercando di portare avanti proprio per la passione l'interesse di alcune aziende che credono fortemente in questa opportunità di servizio al territorio e anche come abbiamo visto di eh convenienza aziendale in termini di di marketing di visibilità di approccio e di relazione con i mercati. Ehm bene io avrei finito in modo tale che abbiamo eh un po' di tempo per ehm dialogare su queste tematiche quindi se ci sono delle domande chiedo alla regia di ehm segnalarmele e mh l'ultima slide vedete riporta eh ovviamente eh tutta una serie di possibilità eh per continuare a mantenere un contatto con il sottoscritto con un progetto Artes ma di questo ne parliamo dopo mi è arrivato un una domanda che consiglio avrebbe dato una start up turistica che vorrei aprire eh su questo su questo discorso del turismo che si possa occupare di turismo industriale beh incominciare a vedere nel proprio territorio nel territorio in cui si intende operare eh che tipo di realtà ci sono come abbiamo visto stiamo parlando di eh di aziende attive che possono raccontare qualcosa che possono essere interessanti ai turisti in termini di tecnologie di storie di vicende eh esposizione musee di impresa siti dismessi del patrimonio culturale molto spesso dipendono dai comuni e quindi vedere se ehm diciamo lavorando in modo serio insieme a loro per mettere appunto un'offerta che consenta la visita ai turisti con le caratteristiche che ho cercato di di rappresentarvi eh potrebbe essere per voi soprattutto se qualcuno di voi è guida turistica o esperto di alcuni settori o appassionato mh non so di di settori ehm prevalenti nel territorio di poter svolgere la loro la vostra attività di accompagnamento di commercializzazione di promo commercializzazione soprattutto poi prima ancora la capacità di di fare eh di fare rete di mettere in rete questi soggetti perché eh da soli non si va da nessuna parte quindi ci sono molte aziende piccole aziende che hanno bisogno di un qualcuno che possa eh favorire questi processi che poi una volta messi in atto in un qualche modo fanno passare tutte le perplessità le difficoltà eh se come è possibile avere le slide che appena fatto vedere mi mandate ad artes al al mio indirizzo di di posta elettronica la richiesta e io ve le giro molto volentieri e se avete bisogno di un aiuto su come implementare una rete di turismo industriale locale sono ben felice di darvi una mano se ci sono altre domande mh è un argomento che a me è appassionato molto che ripeto penso possa essere possa concorrere al futuro eh del del turismo italiano eh molti italiani non conoscono eh eh le nostre imprese e una e tra l'altro ehm i c'è una grande funzione anche di educazione culturale di educazione alle tecnologie io ho visto che eh è la grande possibilità di far conoscere le quattro grandi rivoluzioni industriali dell'ultimo degli ultimi cento centovent'anni eh facendo toccare con mano quello che molto spesso come dire nuove generazioni danno per scontato cosa voleva dire negli anni cinquanta mandare esportare le arance dal dal gargano non c'era certo internet non c'erano i sistemi di transazione si utilizzavano altri sistemi altre macchine come era la pubblicità come era fatta eh le tecnologie della lavorazione dell'olio per esempio nel nel mio territorio piuttosto che le delle imprese meccaniche sparsi un po' in tutta Italia di cui la Ferrari è la numero uno come vedete nella slide o le del settore agroalimentale di come si è evoluto con le diverse tecnologie dal ehm che dalla dall'introduzione del vapore e poi l'elettricità e poi oggi eh la rivoluzione della dell'impresa quattro punto zero hanno cambiato trasformato eh ambienti di lavoro macchinari eh tecno modi modi organizzazioni nell'ambito delle delle imprese se c'è qualche altra domanda bene allora eh mi sembra che eh mi rimane solo il tempo di ehm non vedo altre domande almeno o mi scuso se non riesco a rispondere eh vi ricordo che la possibilità di seguirci come progetto artes eh è quella di utilizzare il sito www.progettoartes.it eh vi ricordo che noi puntualmente abbiamo un calendario di eventi protagonisti e territori dove ciascuno di voi impegnato nei vari territori può raccontare cosa sta facendo e e quindi anche fare rete darci forza a vicenda per innovare il nostro sistema turistico e ehm il club di prodotto join place che mette insieme coloro che vogliono fare prodotti di turismo esperienziale secondo un disciplinare molto preciso e eh io eh faccio parte dell'assotes che è l'associazione professionale degli operatori di turismo esperienziale se ne volete sapere di più questo è il mio eh indirizzo email e il mio cellulare personale non ho difficoltà a interagire e a lavorare con voi eh su questi temi ehm mi chiedeva mi chiedeva qualcuno ho parlato del libro di cosa tratterà tratterà appunto del turismo industriale e di come si possono implementare prodotti di un'offerta di turismo industriale di turismo di impresa attrattivo per i turisti bene ehm io vi ringrazio vi vi saluto eh con il piacere di rimanere in contatto e eh nella nostra logica di attese è fondamentale proprio quello di avere il piacere di di lavorare insieme di scambiare buone pratiche e di di concorrere ognuno per le proprie competenze alla crescita di nuove start up o alla valorizzazione di aziende già presenti sul territorio che hanno bisogno di innovare come abbiamo detto e abbiamo visto non solo le imprese turistiche ma anche ehm le imprese di qualunque settore in particolare quelli del made in italy che possono essere le nostre ambasciatrici le nostre partner partner in questo processo di vendita del di tutto quello che è il made in italy come abbiamo visto di tutto quello che è di buono di di bellezza di arte di cultura siamo in grado di portare nel mondo e di comunicare ai nostri ospiti grazie ancora e a presto una buona serata e un buon proseguimento nell'ambito delle iniziative del summit grazie a tutti